Farini domani festeggia i 150 anni di Fondazione del Comune e lo fa nell'ambito dell'annuale Fiera di San Giuseppe. Simbolo dell'evento sarà il bozzetto realizzato dall'artista William Xerra che raffigura i sassi neri, il lago e il verde del Lungonure. Benevidente è il numero 150 a significare il traguardo raggiunto dal Comune di Farini. Copie a colori dell'opera saranno distribuite ai presenti nella mattinata. Alle 10.30 inaugurazione della manifestazione e subito dopo la presentazione dello spazio scuola ai bambini nel salone parrocchiale dove è allestita anche la mostra fotografica con le immagini più belle di Farini. Durante la cerimonia di apertura Claudio Gallini, studioso piacentino con origini in alta Valnure, presenterà il suo ultimo volume Farini, storia, territorio e personalità. Dopo la messa delle 11.15 nella sala consigliare del municipio il sindaco Antonio Mazzocchi, l'amministrazione comunale premieranno con una pergamena le associazioni e le realtà commerciali del paese. Come da tradizione la fiera di San Giuseppe ha la sua ricetta gastronomica che lo chef Filippo Chiappini Datti lo dedicherà ai 150 anni del Comune. Alla giornata parteciperà anche il motoclub Polizia di Stato Livio Scotti alla sua prima uscita stagionale che in questa occasione ricorderà il collega ed amico Giuseppe Beolchi. Per tutta la giornata bancarelle, giochi per i bambini, degustazione di prodotti tipici, polentata con gli alpini, concerto itinerante dei core di montagna e banco di beneficenza.